Le vere e più buone aiutano i bambini in ospedale, questa mattina in piazza anche ad Avellino di fronte alla chiesa del Rosario. Alessandra Aprea, intanto il perché di questa iniziativa? Qual è il messaggio che vuole lanciare l'associazione? Fondazione Abio organizza la giornata nazionale ogni anno a fine settembre. I volontari sono in piazza per raccontare la loro esperienza, noi raccontiamo quello che facciamo in ospedale con i bambini, in pediatria noi supportiamo il ricovero dei bambini e supportiamo anche le famiglie che sono con loro. E oggi ci raccontiamo in piazza. Le pere che valgono tanto, sono le più buone del mondo. Le più buone perché aiutano, aiutano le nostre associazioni a fare quello che facciamo ogni giorno nelle pediatrie di più di 65 sedi in Italia. Racconta come aiutate i bambini, qual è la vostra esperienza? Siamo in reparto e giochiamo fondamentalmente, andiamo dai bambini, li prendiamo dalle camere e diamo tre ore più o meno al giorno di gioco, di svago, che sono importanti perché i bambini quando vengono ricoverati vengono un po' tirati fuori dalla loro normalità, dalla quotidianità, dai genitori, dai fratellini, dalla cameretta, dalla scuola. E quindi noi regaliamo delle ore di ritorno alla normalità, di tranquillità in cui non sono presi dai medici, dalle terapie e si rilassano con noi, si divertono, li coccoliamo un po'. Vuoi lanciare un messaggio ai telespettatori, anche ai cittadini di Avellino, ma anche a chi dalla provincia sta per arrivare in città? Innanzitutto di venirci a trovare perché siamo qui e possiamo raccontare la nostra esperienza a tutti, a chiunque voglia venirci a trovare. E poi sul sito www.fondazioneabio.org è possibile trovare le informazioni per diventare anche volontari, quindi formarsi e diventare volontari di Avellino.